Gli ingredienti che ci occorrono per preparare aglio e peperoncino sono degli spaghetti, olio di oliva di quello buono, aglio, peperoncino e prezzemolo. Vediamo insieme come preparare pasta aglio e peperoncino perfetta. L'acqua sta iniziando a bollire e io vado ad aggiungere il prezzemolo dentro l'acqua, in modo che così rilascia tutti i sapori. E questo è il primo segreto. Dopodiché in una padella mettiamo olio d'oliva. Aglio e il peperoncino. Dato che l'acqua sta bollendo, aggiungiamo il sale e possiamo buttare dentro gli spaghetti. Questa è la giusta doratura che deve avere l'aglio. Adesso, mentre la pasta è ancora al dente, scoliamo direttamente nella padella gli spaghetti. E questo è un altro piccolo segreto per avere appunto la pasta aglio e peperoncino perfetta, perché la pasta rilascia l'amido, perché noi stiamo andando anche a scolare un pochino di acqua. Quindi facciamo finire la cottura in padella. Se vedete che si asciuga troppo, aggiungete un pochino di acqua di cottura. Spegniamo il fuoco, la pasta è già pronta, però un consiglio che vi do, io uso sia un pochino di parmigiano che un pochino di pecorino. Una manciata di pepe. Mescoliamo. E rimpiattiamo. Ecco qui la nostra aglio e olio e peperoncino. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa mia versione per rendere la pasta appunto perfetta e gustosa. Pollicini in su. Al prossimo video e... Un bacione!